Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo della Kawasaki, c'è una news che magari potrebbe interessare qualche amante delle moto heritage della casa giapponese. Infatti, pochi giorni fa, Kawasaki su YouTube ha postato un breve video, che vi lascio linkato qua sotto, dove anticipa l'arrivo di un modello nuovo previsto in uscita prossimo anno, una moto al momento conosciuta col nome di Z50 anniversario. Per quanto riguarda questa moto nuova, questa nuova Z50, non abbiamo ancora delle informazioni certe su come la moto dovrebbe essere fatta, però abbiamo qualche indizio che ci fa intuire cosa dovrebbe arrivare da parte di Kawasaki nel 2022, e già vi anticipo che in pentola Kawasaki, secondo me, non bolle niente di interessante, ma semplicemente una versione diversa, magari fatta meglio, della nuova Z900 RS-S. Comunque, qua di fianco vi lascio qualche estratto da questo filmato Kawasaki, notiamo diversi indizi che ci rimandano a questo modello nuovo. Primo tra tutti abbiamo una porzione visibile della vecchia Z1 con livrea rossa, abbiamo anche il logo stilizzato di questa nuova moto e richiama il logo all'attuale serie Z900 RS, quindi la moto Eritage della Kawasaki. Abbiamo il nome di questo modello, che penso che sia provvisorio, ovvero Z50, e abbiamo anche l'arrivo di questo modello previsto per il 2022. Ora, mettendo insieme queste informazioni, arriviamo a intuire che per il prossimo anno in ballo ci dovrebbe essere una versione un po' diversa, un po' più bella, magari rispetto all'attuale nuova Z900 RS, magari rispetto proprio alla nuovissima SE. Quindi, fondamentalmente, Kawasaki quest'estate ha presentato, vi ricordo, la 900 RS-SE, che vi vedete qui di fianco, e il prossimo anno potrebbe arrivare una moto simile, però magari con l'ivrea rossa, magari cerchi a raggi e magari qualche logo sparso qua e là per celebrare questi 50 anni di questa Z1 e la moto magari potrebbe arrivare anche in serie limitata, magari una moto quindi appetibile di più per i collezionisti. Prima di andare avanti, quindi, prima di vedere la moto effettivamente come potrebbe essere fatta a livello proprio anche di numeri, velocemente vi ricordo la Z1 che tipo di moto era, no? Perché è una moto uscita anni fa, magari qualcuno potrebbe non conoscere questo modello, anche se attualmente è una moto che è abbastanza richiesta, nonostante sia uscita veramente molti anni fa. Qui di fianco vedete qualche foto proprio della versione con l'ivrea rossa, una moto uscita anni 72, una moto che aveva un motore 4 cilindri, cilindrata a 900, una potenza di 82 cavalli e una top speed di 210 km orari circa. Dati non esaltanti sicuramente direte voi, però considerate che la moto è uscita veramente molti anni fa. Inizialmente questo progetto prevedeva un motore più piccolo, un motore 750, però Kawasaki al tempo è stata anticipata dalla Honda, che è arrivata prima sul mercato con la sua CB750, una moto che ha venduto un macello. Quindi in corsa Kawasaki ha deciso di aggiornare la sua moto, un po' come quello che sembra abbia fatto anche recentemente la Penelli, per esempio mettendo un motore più grosso, quindi arrivando a mettere un motore con cilindrata 900 con una potenza inizialmente di 95 cavalli. La moto era impressionante per prestazioni, una moto che si riceva all'epoca a superarsi i 250 all'ora, tanti per gli anni 70. Il problema è che si era riscontrato che la moto aveva un motore poco affidabile e quindi al tempo decisero di abbassare la potenza per evitare problemi, portando la potenza da 95 a 82 cavalli e la moto ha avuto un ottimo successo, si è dimostrata una moto affidabile eccetera eccetera. E arriviamo qui nei giorni nostri, come dovrebbe essere fatta questa versione Z, 50esimo anniversario. Di fatto, dicevo prima, dovrebbe essere una 900 RSSE, ma semplicemente rossa con qualche particolare, qualche finitura fatta meglio. Quindi qui di fianco vi lascio qualche immagine proprio della nuova 900 RSSE. Il motore dovrebbe essere sempre lo stesso, quindi motore 4 cilindri, cilindrata 9,48, potenza 111 cavalli a 8500 giri, coppia 99 Nm a 6500 giri, peso 215 kg, altezza sella 845 mm, serbatoio 17 litri. Questi qua sono i dati della nuova 900 RSSE, poi telaio, tralicci in acciaio, forcella, stegli rovesciati, regolabili da 41 mm, mono, onlis, S46, quello visto sulla nuova SE. Poi impianto frenante, doppio disco anteriore, 300 mm, con pinze radiale 4 cilindri monoblocco della Brembo, sono le M432, posteriore singolo disco 250 mm, gommata 120-180, strumentazione, penso proprio che sarà sempre la stessa, quindi doppio display analogico con al centro il piccolo schermo LCD e anche come elettronica il Kawasaki Traction Control su due livelli. Questione prezzo, quanto potrebbe costare questa versione celebrativa? Dunque per il prezzo devo ringraziare un follower su Instagram che mi ha linkato il sito ufficiale Kawasaki Germania, dove lì hanno messo i prezzi delle novità 2022, infatti in Italia il prezzo delle versioni nuove 2022 ancora non sono stati comunicati, quindi in Italia non sappiamo la nuova 900 RSSE quanto andrà a costare, però in Germania lo sappiamo, qui di fianco lo vedete, in Germania questa moto, la 900 RSSE con l'ivrea yellow ball, quella gialla, costerà circa 14.000 euro, no? Quindi facilmente una versione celebrativa, magari serie limitata, magari fatta un pochettino meglio, essendo nata proprio per celebrare 50 anni di questa Z1, potrebbe costare secondo me un 500, massimo 1.000 euro in più, quindi questa moto potrebbe alla fine costare circa 15.000 euro, secondo me a spanne questo potrebbe essere il prezzo di questa Z50esimo anniversario, potrebbe essere interessante quindi questa moto, fondamentalmente vi dico di no, però ovviamente per gli amanti delle moto Eritash della Kawasaki sicuramente potrebbe essere appetibile, e magari anche penso ai collezionisti. Diciamo che secondo me queste moto Eritash della Kawasaki costano tutte un pochettino troppo, sul sito Kawasaki Germania è comparso prezzo anche della nuova 650 RS, che secondo me è veramente, veramente troppo alto, però sapete, sapete, sono moto secondo me troppo costose, però va anche detto che sono moto anche particolari, no? Cioè se uno cerca una moto un po' diversa rispetto allo stile classico moderno, no? Volevo cose di particolare, con richiami al passato, per forza di cose deve andare sulla Kawasaki, e quindi Kawasaki gioca su questa cosa per alzare secondo me il prezzo delle sue moto Eritash, perché se no, come sono fatte, secondo me vanno a costare veramente troppo, soprattutto la nuova 650 RS. Comunque discorso prezzi, questi qua sono i prezzi della versione tedesca, della 900 RS, e vedremo quanto costeranno le novità 2022 invece per quanto riguarda l'Italia. Non appena sapremo i prezzi, sicuramente vi porterò le varie info, anche perché ci mancano ancora di sapere il prezzo della nuova 900 base 2022, 900 SE 2022 e anche della 650 RS 2022 e anche della 900 RS SE 2022. Vi terrò informati. Comunque da questo video è tutto. Mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi, non so che dubbi è quello Instagram, finirevi anche l'ufficiale e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!